Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro uno splendido caso di denti fissi con sistema bocca bionica. Paziente giovane, energico, ma con un sorriso spento, malfatto, problematico, rotto, aveva dei denti metallo ceramica, fatti male, ormai tutti spaccati, tutti scheggiati. Aveva già degli impianti dentali, ma erano degli impianti fallimentari, questi che sono stati dovuti eliminare. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Nota la differenza. Paziente con dei denti bianchissimi, molto grandi, mascolini, dei denti molto dominanti, soprattutto i centrali, e ben rappresentati anche a livello dei premolari. Si vede addirittura il dente molare. La composizione di questi denti è perfetta, non solo la simulazione delle gengive, ma soprattutto dove devono essere messi i denti. Questo livello di perfezione lo riusciamo a ottenere grazie al nostro sistema che ora ti mostro. Questi sono gli impianti dentali che sono stati posizionati nella bocca del paziente. Le mascelle erano molto grandi, un paziente alto, quindi con visi grandi occorre mettere più impianti dentali per reggere meglio i carichi masticatori. Abbiamo posizionato dei denti provvisori, abbiamo creato un'idea, un'ipotesi, di quelli che sarebbero potuti essere i denti definitivi, e l'abbiamo condiviso assieme all'equipe medica e al paziente. Una volta approvati abbiamo realizzato in fisico una replica dei denti che avevamo selezionato, linea superior, denti in zirconia iperalistici, con la gengiva che riprende i colori della gengiva del paziente, e un paziente questo riabilitato alla vita, un paziente che ha ancora tanti anni davanti, un paziente che ha molta energia, sicuramente avrà tanta strada ancora da percorrere, e ora può farlo in sicurezza grazie a una riabilitazione di denti iperalistici che nessuno potrà mai distinguere da dei denti naturali. Questo è uno dei casi che a me è piaciuto molto, è stato abbastanza complesso, ma grazie alla progettazione digitale col computer siamo riusciti a ottenere un risultato guidato, predecibile e duraturo.